Sì, ciao Luci, dimmi! Aidi, ciao, stai bene? Bene, bene. Ascolta, devo chiederti una cosa, dobbiamo fare un po' meno meteo bimbo minchia perché ci chiedono delle cose un po' serie, previsione serie se la gente col freddo poi gli girano subito. Capisco, però un po' mi dispiace, il bimbo minchia tira. Io adoro il meteo da bimbo minchia, però per questa settimana almeno cerchiamo serietà, serietà e sobrietà. Parola d'ordine, sobrietà. Oh, d'altronde se la direzione vuole così, dai. Ok, parola d'ordine, sobrietà. Ok. Buongiorno amici e benvenuti al meteo di Chrome TV. Guardiamo ora la cartina. Come potete vedere, sulla nostra regione, l'alta pressione sta arrivando per fare capolino sulle nostre città, ma andiamo a vedere nei dettagli come sarà la giornata di... Previsioni per domenica 30 aprile. Al nord in Lombardia, al mattino nuvolosità anche compatta associata a locali piovigini sulle Alpi, eccetto maggiori spazi di sereno sul Triveneto. Al pomeriggio locali precipitazioni sulle Alpi, centro occidentale e sull'Appennino, variabilità asciutta altrove. Sul resto d'Italia, al mattino tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche addensamento anche compatto sulla Toscana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile, ma con cieli regolarmente nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime, massime, stabili o in aumento. Incredibile! Oh mamma! Per fortuna era solo un brutto sogno. Ragazzi, il metodo di CronTV non sarà mai sobrio. È una promessa e ricordatevi di stare sempre sereni, perché su CronTV prende sempre il sole!